Dal 1 novembre Autolinea Toscana S.p.A. a giudicataria della gara per la gestione dei servizi TPL entrerà ufficialmente in servizio. Sino ad allora il trasporto pubblico locale continuerà ad essere svolto da One Scar a San Cirlo la delibera che ieri ha avuto l'ok della giunta regionale. Si tratta di uno storico passaggio di testimone dopo un lungo contenzioso legale che si è concluso lo scorso 21 giugno con una sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto respinto il ricorso in appello presentato dal Consorzio Mobit confermando definitivamente la legittimità della giudicazione definitiva ad Autolinea Toscana S.p.A. Dopo un lungo contenzioso commenta l'assessore alla mobilità ed infrastrutture Stefano Baccelli abbiamo definito tempi e modalità per il passaggio della proprietà di beni mobili immobili per avviare l'avvio delle procedure per il trasferimento del personale e per assicurare lo svolgimento del servizio. Confidiamo, sottolinea, in un'ordinata fase di transizione. Sarà invece compito dei attuali gestori organizzare con il coordinamento della regione, dei prefetti e delle province la cruciale fase della ripresa dell'anno scolastico e siamo sicuri sulla scorta degli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno che la squadra sarà di nuovo all'altezza dell'impegno.